In Calabria oltre 3.000 beni confiscati, l'assessore regionale Pietro Paolo alla conferenza nazionale in cittadella in giunta dice abbiamo approvato un piano da 50 milioni, daremo impulso al loro riutilizzo. Il direttore dell'agenzia nazionale Corda, salto di qualità con il protocollo siglato con la regione Calabria. Sindacati in piazza a Cosenza, ma quale ponte sullo stretto ci sono altre priorità? Circa 500 i manifestanti scesi in piazza questa mattina a Cosenza e in altre città calabresi per l'ultimo ciclo di scioperi di CGL e Will. Petrol Mafia e 30 anni per il boss Luigi Mancuso e Giuseppe D'Amico. Le decisioni dei giudici del Tribunale di Vivo Valencia. Mano pesante per l'imprenditore e il capo clan. Un anno con pena sospesa per l'ex presidente della provincia di Vivo, Salvatore Solano. A Panettieri incontro e confronto sui femminicidi. Iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Parrotta, prima l'inaugurazione di un'installazione e poi all'interno della chiesa parrocchiale di Panettieri il confronto sul tema. Ben ritrovati in nuova edizione dell'altro Corriere Tg. Come sempre un saluto dalla nostra redazione e apertura che dedichiamo alla politica. L'importante incontro organizzato questa mattina alla Cittadella regionale, la conferenza nazionale sui beni confiscati. L'occasione per fare il punto insieme al presidente nazionale, direttore nazionale dell'agenzia Bruno Corda, con il sottosegretario all'interno Vanda Ferro e insieme anche all'assessore regionale Pietro Paolo. Ma per sentire il bilancio lo ascoltiamo nel primo servizio di oggi. Solo pochi giorni fa l'approvazione in giunta regionale di una nuova strategia per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso le politiche di coesione. Oggi, in Cittadella, la prima conferenza nazionale sui beni confiscati. Conferenza alla quale ha partecipato anche Bruno Corda, direttore dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Ma io devo dire che il salto di qualità che è stato fatto da parte nostra e anche da parte della regione Calabria è un salto importantissimo. Intanto perché con il protocollo che pochi mesi fa abbiamo sottoscritto con loro, che è stato tra l'altro il primo a livello nazionale, è stata prevista una cosa che per noi è assolutamente decisiva. Vale a dire il fatto che l'amministrazione sostenga effettivamente, fattivamente i comuni, soprattutto quelli più piccoli, dove sono presenti i beni confiscati. Non è tanto e non soltanto una faccenda di finanziamenti, anche di questo certamente, quanto per il fatto dell'attività di programmazione e di predisposizione dei progetti. Il punto sui beni confiscati in Calabria lo ha fatto l'assessore regionale Filippo Pietropaolo. Sono moltissimi immobili, tra beni immobili e terreni stiamo parlando di oltre 3.000 cespiti. Di questi almeno oggi circa 60 sono già stati recuperati e avviati a un'attività produttiva nuova. Però noi vogliamo dare un impulso ulteriore. È complicato, è un'attività molto complessa perché bisogna collaborare strettamente con le forze dell'ordine e con le prefetture per evitare che ci sia la possibilità che i soggetti rientrino in qualunque modo dalla finestra dei soggetti che erano usciti dalla porta. E quindi dobbiamo fare degli studi attenti sul territorio, per cui abbiamo intenzione di creare dei tavoli tematici, dei piani di azione con i prefetti in maniera tale da identificare bene, i prefetti che conoscono bene il loro territorio, cosa è possibile fare sui singoli beni. Abbiamo aumentato nell'ultimo anno l'assegnazione del 142% e abbiamo per la prima volta fatto un bando, secondo quanto previsto dal codice antimafia del 2017. Su questo andremo avanti. Lo ha detto Vandaferro, il sottosegretario all'interno, a margine proprio dell'incontro organizzato questa mattina alla Cittadella. Sentiamo. La Calabria invece ha dato una grande dimostrazione attraverso parecchi comitati, ma anche l'acquisizione da parte dei comuni di tanti beni, penso 97 beni nell'ultima tornata, di una grande maturità, di una grande volontà di combattere la criminalità attraverso proprio la possibilità di riprendere dai cittadini allo Stato quegli immobili confiscati che certamente dimostrano che la criminalità non si abbatte soltanto con o si combatte con la repressione piuttosto che con gli arresti, ma con il toglio e quello che in qualche modo è stato un motivo per il quale tante persone hanno dato il loro consenso, quella ovviamente dell'aspetto economico. Quindi una regione maturia, non ci sono divari tra le regioni, anzi credo che il Sud stia dimostrando in tutte le sue forme grande attivismo, grande capacità, grande coraggio, grande volontà di invertire una rotta che per troppo tempo aveva visto i beni confiscati a basse percentuali. Abbiamo aumentato nell'ultimo anno l'assegnazione del 142%, abbiamo per la prima volta fatto un bando, secondo quello che ha previsto al codice antimafia del 2017, con l'assegnazione ovviamente attraverso una manifestazione di interesse al sociale in forma singola associata e quindi devo dire che su questo andremo avanti. Voltiamo pagina, andiamo adesso a Cosenza dove questa mattina insieme ad altre piazze della nostra regione i sindacati CGL e Will hanno manifestato per dire no al ponte sullo stretto, ma non solo, hanno parlato anche delle priorità più importanti per la Calabria. Con lo sciopero di oggi anche in Calabria si conclude il ciclo di manifestazioni proclamate da CGL e Will con lo slogan Adesso basta, dopo gli scioperi nelle regioni del centro e in quelle del nord, oggi in programma manifestazioni a Bari, Catanzaro, Cosenza, Napoli, Potenza e Reggio Calabria. Nella città dei Bruzzi circa 500 manifestanti per rivendicare proposte e iniziative unitarie in piazza per difendere i diritti. Continuiamo a riempire le piazze per dire adesso basta all'ennesima legge di bilancio che non dà nessuna risposta a lavoratori e pensionati. Avevamo chiesto di restituire potere d'acquisto a queste persone che l'hanno perso in questi anni per via di un'inflazione al 10% e nessun segnale è stato dato da questo governo. Avevamo chiesto di detassare gli aumenti contrattuali, avevamo chiesto di rinnovare i contratti, avevamo chiesto di detassare la contrattazione di secondo livello e invece non si è data nessuna risposta a queste persone mentre nel frattempo si va avanti con una riforma del fisco sempre più iniqua. Qualcuno pensa di costruire il ponte sullo stretto, noi invece diciamo che ci sono altre priorità, ne cito una su tutta, la questione sanità. Queste sono le priorità. Presente alla manifestazione di questa mattina a Cosenza anche Pino Gesmundo, segretario nazionale della CGL, ha detto c'è un mezzogiorno che non è per nulla d'accordo con le scelte del governo. Sentiamo. C'è un mezzogiorno che non è per nulla d'accordo con le scelte del governo. Ci sono lavoratori e cittadini che oggi si autotassano scioperando e pagando la loro libertà di poter scioperare e che mandano un messaggio chiaro al governo e chiaro soprattutto al ministro Salvini. Si facciano gli investimenti, altro che le chiacchiere. Si investano nel mezzogiorno, ci sono le risorse che possono essere utili all'intero paese. C'è pensionati e lavoratori che non ci stanno, una manovra che non è equa, non è redistributiva. Bisogna intervenire sulle questioni fiscali, sulle pensioni, sul fisco. C'è bisogno di mantenere almeno le promesse che avevano fatto. Non volevano modificarla a Fornero. Non avevamo capito che l'avamo modificata in peggio. Spazio alla cronaca perché era attesa per oggi la sentenza nata dall'inchiesta Petrol Mafia coordinata dalla Direzione Distruttuale Antimafia di Catanzaro. Dicevamo, oggi era attesa nel Tribunale di Vibo Valencia la sentenza del processo di primo grado. Sentiamo com'è andata. Regge a metà l'impianto accusatorio della distrittuale antimafia di Catanzaro che ha portato all'inchiesta e poi al processo Petrol Mafia, chiamata anche Rinascita 2. A sancirlo con i numeri sulle 59 richieste di condanne avanzate dai PM della distrittuale antimafia Andrea Mancuso, Antonio De Bernardo e Andrea Buzzelli, nella requisitoria sono in tutto 35 quelle condivise dei giudici, mentre le assoluzioni sono 23, in alcuni casi anche pesanti. A reggere sono soprattutto le accuse nei confronti del boss indiscusso dell'andrangheta vibonese Luigi Mancuso, già coinvolto e Rinascita Scott. Trent'anni inflitti allo zio Luigi, così come per l'imprenditore Giuseppe D'Amico che è fratello di Antonio, condannato oggi a 18 anni e 10 mesi di reclusione. Cugino degli imprenditori D'Amico è Salvatore Solano, ex presidente della provincia di Vibbo Valenzi e sindaco di Stefanaconi. Secondo la DDA di Catanzaro Solano avrebbe beneficiato dell'endorsement dei cugini. I giudici di Vibbo hanno escluso l'associazione mafiosa del sindaco di Stefanaconi, condannandolo solo ad un anno ma con pena sospesa oltre ad una multa di 50 euro. Smontato infine il castello accusatorio nei confronti dei due presunti broker, Francesco Porretta e Irina Paduret, assolti entrambi nonostante i 16 anni richiesti d'EPM. La donna classe 86 della Moldavia insieme al milanese classe 74 era accusata di essere una broker operante nel territorio milanese, legata ad Antonio Prenesti in contatto con Giuseppe D'Amico Luigi e Silvano Mancuso, considerata anello di collegamento tra la cosca Mancuso e importanti fornitori italiani e stranieri di carburante. Andiamo a Reggio Calabria dove in un blitz eseguito questa mattina sono state arrestate otto persone per lo più di etnia rom di età compresa tra i 21 e i 39 anni, consideranti i presunti responsabili di alcuni furti avvenuti ai danni privati e società erogatrici dei servizi pubblici locali. Per il comune di Reggio Calabria i dettagli nel servizio. Sgominata dai carabinieri a Reggio Calabria una banda che avrebbe messo a segno una lunga serie di furti di mezzi edili del valore di centinaia di migliaia di euro. Si tratta di un sodalizio criminale composto da uomini in prevalenza di etnia rom di età compresa tra i 21 e i 39 anni. L'operazione, eseguita questa mattina all'interno di un campo nomadi e presso abitazioni private, rappresenta l'epilogo di un'attività di indagine iniziata nel luglio del 2022, quando il legale rappresentante della Castore SRL, società impegnata per la gestione dei servizi pubblici per il comune di Reggio Calabria, aveva denunciato l'avvenuto furto di diversi mezzi pesanti, destinati ad un pubblico servizio per un valore di oltre 270 mila euro. A distanza di pochi mesi, un analogo episodio criminoso è stato perpetrato ai danni della Idroregion Scarla, società impegnata nella gestione del servizio di depurazione delle acque reflue su tutto il comune Reggino. Lo stesso Sodalizio, inoltre, si sarebbe reso responsabile anche di un furto in località Terreti ai danni di un privato, al quale è stato sottratto un escavatore idraulico del valore di oltre 40 mila euro, parcheggiato all'interno di un capannone e di un ingente quantitativo di rame sottratto nel territorio del comune di Caulonia. Attraverso l'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privati, sono stati individuati i percorsi di fuga effettuati dal gruppo criminale dai diversi siti delle imprese, la cui base logistica veniva individuata all'interno di un'area popolare di Gioia Tauro denominata Ciambra. Andiamo adesso a Panettieri per un incontro e confronto sui femminicidi, un'iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Parrotta. c'è stato un evento organizzato in due distinti momenti, il primo l'inaugurazione di una installazione e poi all'interno della chiesa parrocchiale di Panettieri il confronto su un tema di strettissima attualità. Una cerimonia suggestiva divisa in due momenti, prima l'inaugurazione di un'installazione e poi all'interno della chiesa parrocchiale di Panettieri in provincia di Cosenza, il confronto su un tema, quello della violenza sulle donne, che in Italia rappresenta un'emergenza ed è drammaticamente tornato all'attenzione nazionale dopo il barbaro assassino di Giulia Cecchettin. In platea anche i giovani impegnati nel servizio civile di tanti sindaci che hanno accolto l'invito del primo cittadino di Panettieri, Salvatore Parrotta, al centro delle riflessioni non solo gli aspetti culturali legati alla violenza di genere, ma anche le azioni concrete come quelle messe in campo dalla Regione Calabria. Noi come Consiglio regionale abbiamo regolarmente nominato la Commissione Pari Opportunità, abbiamo istituito con legge un osservatorio sulla violenza di genere, abbiamo anche istituito un osservatorio sulla discriminazione dei luoghi di lavoro. A breve sarà anche stipulato un protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale, l'ATERP e l'Osservatorio sulla violenza di genere per individuare delle case appartamento da dedicare alle donne vittime di violenza. Io ho dato un'indicazione che siano proprio le zone interne destinatari di queste individuazioni. Devo dire che il modo con il quale l'amministrazione comunale di Panettieri, guidata dal Sennaco Parrotta, i ragazzi del Servizio Civile e tutta la comunità ha affrontato questa tematica è stato il modo giusto per questa sera, andiamo via arricchiti da una serata che ha avuto modo a noi di insegnare qualcosa e che forse queste aree interne meritano delle chance e delle opportunità per il livello elevato di civiltà che noi possiamo riscontrare. In chiusura del nostro TG ci occupiamo di sport e in particolare di calcio, cancellare il K.O. del Ceravolo nel derby contro il Catanzaro è l'imperativo assoluto del Cosenza che domani alle 14 riceve al San Vito Marulla la Ternana. Mister Caserta non vuole cali e avverte, non guardiamo la classifica degli avversari, ma il loro valore. Sentiamo. Ma a differenza di altre partite, di altre sconfitte, ci è voluto qualche giorno in più perché la sconfitta del derby, a prescindere dalla sconfitta come è capitata in altre partite, ti lascia qualcosa in più, qualche rammarica in più e quindi qualche giorno in più ci è voluto. Però ragazzi, da ieri abbiamo resettato questa partita perché abbiamo parlato subito dopo il giorno dopo il derby, cercando di resettare però, ripeto, non è facile dopo il derby resettare subito il giorno dopo. Ci abbiamo messo qualche giorno in più però adesso sappiamo che non bisogna più pensare al derby, ormai è passato, non possiamo fare più niente per quello per comandata. Bisogna pensare alla Ternana, sarà una gara difficilissima. Non guardo la classifica, sia quando giochiamo contro le squadre di alta classifica, sia in questo caso contro una squadra che a livello di punti la classifica dice che sta in difficoltà, ma io ho visto anche le partite che ha fatto col Palermo, anche con lo Spezia, ho fatto delle prestazioni importantissime contro due squadre forti, quindi non sarà una partita facile. Bene, per l'edizione del nostro OTG è tutto, grazie per la vostra cortese attenzione, vi lascio adesso ai programmi dell'altro Corriere TV. Buon proseguimento. Ciao. Ciao.